Una pagina di storia per la città di Bisignano. 40 anni di radio popolare, creata nel 1977 agli inizi di giugno e che rimane ancora oggi una bella pagina di storia e di cultura cratense. Erano gli anni della contestazione e della ricerca di quel possibile mondo migliore che invocava le discussioni e ogni aspetto della quotidianità. Si teorizzava il compromesso storico e nei bar, nonché nelle famiglie, si trascinavano le questioni affrontate nell'ultima riunione di partito, alla ricerca di quella posizione comune che era stata la caratteristica del centralismo democratico. La nascita di radio popolare a Bisignano fu anche una risposta alle radio locali non molto vicine alle idee progressiste. E l'avventura, partita nel giugno del 1977, fu anche un utile sfogo per le forme di espressione alternative, con un modo nuovo ed entusiasmante di fare politica, nonché di affrontare i problemi della gente, dandone così realmente una voce potente ed efficace. Radio popolare, con il suo trasmettitore valvolare da 1000 Watt, riusciva a raggiungere il vasto territorio da potenza a Catanzaro, nonché riusciva ad essere coperta dall'ionio e al tirreno. Ogni settimana le lettere degli ammiratori erano anche una valanga sul piccolo tavolino all'ingresso dello studio 1, segno della massima partecipazione anche della città e dei radioascoltatori. Purtroppo questo ora è un altro pezzo della storia, che velocemente sta per finire del dimenticatoio. Una Bisignano anche questa che aveva voglia di incontrarsi, confrontarsi e lottare per realizzare idee concrete. Quella di radio popolare per tutti, come Luca Sireno, autore di queste bellissime parole, è stata un'esperienza di vita irripetibile. Ma la società oggi è cambiata, è finito quello spirito di sacrificio dettato dalla passione e al termine del riflusso verso il privato, con la fine dell'interesse per le grandi questioni della comunità, la radio dei cosiddetti compagni e degli amici di partito non ha saputo trasformarsi in un'azienda moderna, come è successo ad altre realtà. Non è riuscita, insomma, a diventare commerciale. Bisignano tuttavia è stato anche questo e per alcuni degli speaker o comunque dei radioascoltatori è sempre bello ricordare delle pagine così curiosi ed interessanti. Per questa edizione è tutto, io vi auguro un felice weekend e vi lascio con i programmi della nostra rete.